Grandi emozioni allo stadio Iacovone per la semifinale della Shirea Cup, trasmessa in diretta da Canale 189. Davanti ad un pubblico entusiasta e numeroso, la Juventus ha battuto la Roma e calci di rigore per 6-4 alla termine di una partita emozionante. I giallorossi in vantaggio per 2-1 nei tempi regolamentari sono stati raggiunti dai bianconeri in pieno recupero. Dagli 11 metri gli juventini sono stati più freddi, conquistando la finale di Matera. Nell'ultimo atto del torneo la Juventus troverà il Milan, che nell'altra semifinale in programma al De Bellis di Castellaneta ha sconfitto ai rigori l'Internazionale di Porto Alegre. Il match di chiusura si disputerà domani sera alle 20.30 nella città dei Sassi e sarà trasmesso ancora una volta in diretta dalla nostra emittente. Un appuntamento da non perdere.